Per oltre un secolo, il governo ha addestrato e impiegato animali come agenti di spionaggio. Ma ora è stata fatta una scoperta che va al di là di qualunque cosa la scienza possa immaginare. Una squadra speciale di spionaggio chiamata G-Force. È un roditore? Siamo agenti ufficiali dell'FBI. E vai! Agente Blaster. Armamenti e trasporti. Sono quasi sicuro che sia crudeltà sugli animali, ma mi piace! Agente Quartz. Arti marziali con un'arma segreta. Agente Speckles. Spionaggio cibernetico. Mi sto infiltrando nel computer. Sei un genio! Sono una talpa, infiltrarmi è la mia specialità. Agente Darwin. Leader della squadra G-Force. Il destino del mondo libero faccia sulle mie spalle! Oh oh! Credo sia meglio farsi un sonnellino. Prossimamente. È ora di dare inizio alla festa! Oh oh! Tira in dentro la pancia! Lo sto facendo! Tenetevi pronti per uno spettacolo in Disney Digital 3D. Ti sei fatto seminare da dei porcellini d'India. Questo è un vero sballo, ragazzi! G-Force. Super spie in missione.